allora oggi ho fatto un nuovo tentativo di record alle dip però c'è stato un errore allora il mio record precedente alle dip era di 25 ripetizioni e anche in questa occasione ne ho fatte 25 ora c'è stato un errore perché il mio problema più grande quando faccio serie da tante ripetizioni è contarle invece di mettermi là e farne quante più posso tanto poi dopo posso contarle comunque grazie alla videocamera perché ho registrato mi metto a contarle perdo il conto e io a un certo punto si vede nel video che mi fermo ero convinto di essere già arrivato a 25 ripetizioni ne ho fatte altre due credevo di averne fatte 27 e invece no perché ero a 23 ero a 23 ripetizioni ne ho fatte altre due ho eguagliato il mio vecchio record va bene farò ancora un altro tentativo e comunque continuerò ad allenarmi per superare quel vecchio record ora siccome un altro dei miei problemi quando guarda in questo video ad esempio adesso vedi che faccio i dip l'ho messo laterale apposta vedi come la spalla è parallela al gomito scendo leggermente un po in più al massimo leggermente sotto il parallelo ma principalmente parallelo che è successo che ogni volta che faccio le dip e torno indietro ad esempio ti faccio vedere di nuovo al tentativo qui puoi vedere che ho iniziato bene a farle parallele ma ad un certo punto comincio a scendere troppo ecco qua qua sto scendendo troppo e io credo che questo mi faccia perdere comunque potenza scendo troppo quindi credo di dovermi allenare per bene per fare in modo da farle sempre parallele e questa è la 25esima ripetizione che io ero convinto fosse la 27esima credevo di aver fatto un nuovo record invece no che poi sono andato a rivedere a ricontare va bene farò ancora un altro tentativo e come facevo vedere prima qua abbiamo le serie di allenamento io ovviamente non le filmo tutte le filmo una ogni tanto queste le ho filmate principalmente per la tecnica per vedere se effettivamente stavo scendendo ad altezza parallela e sì queste sono parallele qualche millimetro sotto il parallelo ma vanno bene così non mi fanno perdere forza energia visto che io ho notato che quando utilizzo un sovraccarico e dopo torno al peso corporeo faccio molte ripetizioni in più quindi ho pensato nonostante ho qua ero stanco morto ho pensato di fare ancora un altro tentativo per vedere dove riuscivo ad arrivare e qua ne ho fatte 18 ripetizioni chiaro ero ero stango morto ci riproverò ad un'altra occasione grazie a tutti